Il ristorante e pizzeria Porto Matto apre il 2011 con una nuova proposta. Dal 28 gennaio il Porto Matto accoglierà la propria clientela tutti i giorni, proponendo le ricercate specialità culinarie, le varietà di pizza e i singolari dolci che da anni hanno reso inconfondibili e unici i suoi sapori. Ci trovi in via Sandro Pertini 43 ad Avola o chiamalo 0931 82 22 07. Ristorante e pizzeria Porto Matto, le prelibatezze della nostra terra tutti i giorni tranne lunedì.